Buongiorno a tutti quanti voi, buon sabato, sabato 30 marzo 2024, sabato santo, siamo praticamente al ridosso della Pasqua, un fine settimana quindi diverso, quindi molto particolare. Poi ovviamente a fine trasmissione faremo anche gli auguri di Pasqua. Gli auguri di Pasqua li faccio in anticipo a Luca Chito, che saluto e ringrazio, in regia oggi, quindi con noi. Ebbene, oggi parliamo di tanti argomenti, poi tra l'altro è ovvio che non si può non parlare della Pasqua, di quelle che sono state ieri, per esempio le tante celebrazioni che ci sono state in giro per la Calabria, le tradizioni, ieri abbiamo fatto riferimento per esempio a quella di Nocera Terinese, ma penso anche a quella di Verbicaro, quella di Cassano Ionio, l'Anaca di Catanzaro, stante davvero le tradizioni che si susseguono in queste giornate. Ovviamente nel corso del nostro telegiornale vi mostreremo alcune immagini particolari, di alcune celebrazioni, alcuni riti del venerdì santo, ovviamente come sempre. Ma non parliamo solamente della Pasqua, ne parleremo diffusamente, ovviamente oggi, non può essere diversamente, si parla anche oggi di sanità, per esempio, altro tema all'ordine del giorno, un piano per ridurre le liste d'attesa, questa è l'apertura di Gazzetta del Sud che vedremo fra poco. E parleremo ovviamente ancora di politica, sia a livello nazionale che a livello regionale, ovviamente in Calabria la politica passa non solo per la gestione della sanità, ma anche per esempio per le elezioni amministrative, per quelle che sono le trattative in questo momento che susseguono nei diversi comuni che andranno al voto Corigliano Rossano, per esempio, è uno dei comuni e ne parleremo. E poi questa mattina si sta parlando molto delle elezioni comunali di Montalto Fugo, era stata annunciata la candidatura qualche tempo fa di Mauro Dacri e anche quella di Biagio Faragalli e quella di Formoso. Ebbene, Formoso si è ritirato, proprio questa mattina è arrivata l'ufficializzazione del ritiro della sua candidatura, quindi non sarà in lista di partenza a Montalto Fugo. Corigliano Rossano invece, per esempio, se ne parla oggi su Gazzetta, si parla del programma di centrodestra, con Pasquale Nastraface, candidata del centrodestra, dall'altra parte Campolargo, molto probabilmente per Flavio Stasi, sindaco uscente. Queste sono un po' di anticipazione rispetto a quello che vedremo oggi. Poi parleremo ovviamente anche di cronaca, ma parleremo anche di sport, perché non è giornata, oggi non si gioca in Serie B, si gioca in Serie A, si sta giocando in Serie A, si giocano tanti campionati, poi ci si ferma domani e lunedì ancora Serie A, per quanto ci riguarda, perché il Cosenza affronterà il Brescia nel match di Pasqueta, alle ore 15, non proprio un orario amato dai tifosi, che avrebbero preferito ragionevolmente un orario serale, il Catanzaro invece gioca sul campo della capolista Parma al Tardini. Oggi sentiremo proprio Viali, che ha parlato proprio poco fa in conferenza stampa, lo sentiremo più avanti. Vi voglio anche ricordare, poi tra l'altro oggi su tutte le prime pagine dei giornali nazionali, anche regionali, troviamo Sinner, che ieri ha battuto nettamente Medvedev, è ancora in finale a Miami e vincendo potrebbe raggiungere il secondo posto della classifica mondiale, alle spalle di Djokovic, scavalcando Alcarazza, e oggi ne parlano davvero tutti i giornali. E dicevo, stanotte poi c'è anche il ritorno all'ora legale, le lancette vanno spostate praticamente un'ora in avanti alle due, bisogna spostare le lancette alle ore tre, questo vuol dire che per una notte dormiremo di meno, ma guadagneremo un'ora di luce, quindi farà notte un po' più tardi. E questa è anche una buona notizia per i consumi e risparmi, che potrebbero arrivare globalmente, ovviamente, sui 90 milioni in Italia. Ma adesso iniziamo appunto a sfogliare i giornali, oggi ne dico, la iniziamo da Cazzetta del Sud, edizione di Cosenza, e avevamo già detto che ci saremmo occupati di sanità e del piano per ridurre le liste d'attesa. L'idea di una piattaforma unica per i CUP, i centri unici di prenotazione, è accordo per stabilizzare anche i precari, i tempi biblici per visite ad esami diagnostiche e pressing da Roma spingono le regioni ad attivarsi. Nel migliore dei casi tocca aspettare qualche mese per una semplice visita o un comune esame diagnostico. Se si è meno fortunato è addirittura un anno. Le infinite liste d'attesa nella sanità calabrese sono da sempre un punto dolente del sistema, tanto a diventare una costante nei richiami periodicamente inviati dai ministeri che sovrintendono all'attuazione del piano di rientro. Adesso attraverso il nuovo sistema, ma che la struttura commissariale vorrebbe mettere a punto, si darebbe la possibilità all'utente di valutare eventuali alternativi presenti nel territorio regionale. E ciò grazie al collegamento di tutti i CUP, compresi quelli fisici di aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere, IRCS e anche private accreditati su un'unica piattaforma gestita da azienda zero. Intanto, a proposito di precariato, è stato raggiunto l'accordo fra sindacati e regione per stabilizzare i precari storici del settore e le novità positive riguardano anche l'assunzione degli OSS. Fra poco vedremo anche ciò che è accaduto a Corigliano Rossana a proposito di sanità. Ne parleremo dopo con le notizie che arrivano da diverse province. Adesso andiamo avanti con altre notizie. L'inflazione è nuovamente in crescita, più 1,3% a marzo. Però guarda caso, proprio al ridosso della Pasqua, quando aumentano i consumi, l'inflazione torna a salire, torna a salire i prezzi. Rialzo di mezzo punto e passa dal più 0,8 di febbraio a più 1,3%. Moderata ripresa dei prezzi. Chiedo scusa, era prevista tenendo conto di alcuni fattori come l'attenuarsi della flessione dei prezzi dei prodotti energetici, alla fine dei saldi, l'aumento della domanda di bene e servizi legati alle vacanze di Pasqua, ecco qua ovviamente, che ha pesato su listini e i prezzi dei biglietti, dei trasporti. Con il dato di marzo, l'inflazione acquisita per il 2024 è pari a 0,6 per l'indice generale, molto distante da quelle stime che danno l'inflazione media del 2024 sotto al 2%, se non di poco superiore all'1%. Numeri che inducono alcuni osservatori all'ottimismo. Però, insomma, secondo ConfCommercio è una stima attesa, ma di fatto crescono i prezzi. Non è ovviamente la prima volta. Gli scenari di guerra. I caccia italiani intercettano jet russi nel Mar Baltico, tensione nei cieli, in volo gli aeroflighter dell'aeronautica, a Tascam Verti, il rischio di guerra in Europa è reale. E dobbiamo fare molta attenzione, perché qui c'è un rischio davvero di escalation della guerra, preoccupa e non poco. Pioggia di bombe sull'Ucraina, dalla Turchia sponda a Mosca, 0,07 stranieri dietro la strage. E poi Israele colpisce Hezbollah, raid su Aleppo, 40 morti, si riaprono i negoziati per una tregua a Gaza. Ieri abbiamo già dato la notizia sui nostri... Dando un'occhiata ai siti internet, Sandokan, ovvero Francesco Schiavone, al secolo Francesco Schiavone, collabora con la giustizia, il pentito di Camorra. Le rivelazioni del settantenne, storico boss dei Casalesi, potrebbero far luce sui rapporti fra politica e clan. Francesco Schiavone si pente dopo 26 anni di carcere duro. Saviano si chiede, parlerà davvero? Insomma, al di là delle opinioni di ognuno, la notizia, il pentimento. E poi, come abbiamo detto, c'è Yannick Sinner su tutti i giornali oggi. Lezioni a Medvedev, finale a Maievio, numero due più vicino. Continua a battere tutti i più forti. Altra grande prova della star azzurra. Travolge 6-1, 6-2. Pensate, Medvedev ha la quinta sconfitta consecutiva contro l'Azzurro. Pensate che l'anno scorso, fine anno, Medvedev e Sinner non ha mai battuto Medvedev. Poi sono arrivate cinque gare, cinque match e cinque vittorie di Sinner, tra cui la finale australiano, perché conosciamo bene. E affronterà il vincente di Zverev e Dimitrov, che hanno giocato nella notte. Vi posso dire che ha vinto Dimitrov in tre set. Per il fantastico Sinner, numero due, ATP, sempre più vicino in casa appunto di vittoria. Lo abbiamo ricordato, lo ricordiamo nuovamente. Questa notte torna l'ora legale. Risparmi per 90 milioni. Lancette spostate alle 2, alle 3. Terminerà il 27 ottobre, quando guadagneremo quest'ora di sonno e perderemo un'ora di luce. Questo per quanto concerne le notizie in prima pagina su Gazzetta del Sud, l'edizione di Cosenza. Se diamo un'occhiata anche alle altre edizioni, come vedete l'edizione di Catanzaro, Crotone, la mezzaterma e Vibo Valencia, ancora stessa identica apertura, piano, liste d'attesa e poi le altre notizie. Idem per quanto concerne Reggio Calabria. E allora ritorniamo a questo punto sulla prima pagina di Gazzetta, edizione di Cosenza. Perché? Perché dobbiamo andare a dare spazio alle altre notizie. Abbiamo parlato di sanità e dei famosi CUP, delle liste d'attesa, ma cosa è successo intanto a Corigliano Rossano? Un ennesimo episodio di violenza nei confronti di persone e cose, in questo caso di cose, e un detenuto semi nel panico nel pronto soccorso. Questo è l'ospedale di Corigliano Rossano, precisamente il Giannettasio di Rossano, quello che vedete in foto. Un detenuto del carcere di Rossano, semi nel panico nel pronto soccorso dell'ospedale della città Ionica. Sappiamo bene che lo SPOC di Corigliano Rossano è diviso nel Giannettasio di Rossano, che è questo che vedete in foto, è il compagno di Corigliano, unico SPOC comunque. Questo è appunto, come diciamo, il Giannettasio di Rossano. È l'ennesimo caso di violenza che avrebbe protagonisti reclusi nel penitenziario rossanese. Il Presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, e il Garante regionale dei diritti dei detenuti, Luca Muglia, hanno scritto al Ministro Nordio sollecitando interventi. Quindi l'appello al Ministro Nordio. Altre notizie. Partiamo dalla politica. Lacerato agli strappi, il PD adesso sperna la riconciliazione. Siamo a cosenza. Problemi all'interno del Partito Democratico. La Cassazione intanto annulla l'ergastolo al boss. Siamo a parlare di cronaca. Cronaca giudiziari, ovviamente. Il boss Mario Gatto era stato condannato all'ergastolo. La Cassazione ha annullato la condanna. A Corigliano Rossano, invece delle elezioni amministrative di giugno, la candidata del centrodestra, Straface, illustra gli obiettivi della coalizione, sostenuta anche da Azione, che sembra aver piegato verso destra. E poi andiamo a Castrovillari. Impianti fotovoltaici a ridosso del parco. E scontro in consiglio con la minoranza. Due impianti fotovoltaici installati a ridosso dell'area protetta del parco del Pollino. La maggioranza è contraria. Il centrodestra favorevole scatta lo scontro in consiglio comunale. Confartigianato, i prodotti tradizionali salvano la Pasqua, la festa in Calabria. Confartigianato segna il virtuosismo del settore della pasticceria, pur se caratterizzato da rincari. Ebbene, Pasqua, l'abbiamo detto, questa è la prima pagina di Gazzetta del Sud. E a proposito di Pasqua, allora è il momento dei dolci di Pasqua. Si parla di consumi, si parla di celebrazioni, ovviamente religiose, quelle degli ultimi giorni. Ce ne saranno poi da questa notte, nuovamente, la veglia pasquale, domani le celebrazioni, ma è il momento anche degli auguri di Pasqua. E allora, abbiamo raccolto gli auguri, abbiamo ascoltato gli auguri rivolti ai fedeli da parte del Vescovo della Diocesi di San Marco Argentano, Scalea, Monsignor Stefano Rega. Si parte, diciamo, dal bel tempo, da queste belle giornate, come metafora per parlare della luce che potrebbe portare questa, che potrebbe portare queste festività. Sentiamo Monsignor Rega. Mi piace pensare alla Pasqua come questa bella giornata di sole che la primavera ci sta donando una giornata di sole, di caldo, di luce. È bello anche stare così all'aperto, è bello respirare l'aria pulita delle nostre terre, delle nostre zone. E dicevo che mi piace pensare così la Pasqua. La Pasqua è proprio lasciare che il sole, la luce, il calore possa entrare nella nostra vita. Pasqua è passaggio, passaggio proprio da ciò che è buio, da ciò che è triste, da ciò che è fatica a ciò che è vita, a ciò che è luce, a ciò che è resurrezione. E questo è quello che il Signore può operare nella nostra vita. Questo è quello che Gesù può veramente fare di bello per ciascuno di noi. E allora togliamo la pietra che magari è sul nostro cuore, sulla nostra vita, togliamo magari quel buio che c'è dentro di noi per le tante fatiche che viviamo e lasciamo che la luce possa entrare nella nostra vita. Pasqua è anche aiutare a togliere le pietre, i macigni che sono sulla vita, sulle storie di tanti nostri fratelli e sorelle che soffrono. Ecco, la Pasqua è anche aiutare gli atti a liberarsi di pesi, di fatiche, di angosce. Quindi l'augurio che tutta questa luce, che tutto questo splendore di Cristo risolto possa entrare nella nostra vita. è l'augurio che ognuno di noi possa aiutare a rotolare le pietre dalla vita di tanti nostri fratelli. Penso alla guerra, penso alle tante fatiche, penso all'incertezza del futuro, penso ai nostri giovani, pensiamo ai nostri territori che vivono tante difficoltà. Ecco, Pasqua sia veramente rotolare questi macigni, togliere queste pietre, aiutandoci reciprocamente. Il Signore lo ha fatto per noi, il Signore è morto, il Signore ha vissuto una passione per darci questa luce, questa speranza e che noi possiamo lasciare fondentrare tutta questa speranza nella nostra vita e aiutare anche gli altri così a sperare. Auguri, buona Pasqua. e con gli auguri di Monsignor Rega lasciamo la provincia di Cosenza, lasciamo la dioggio di San Marco Argentano momentaneamente alla provincia di Cosenza per spostarci a Catanzaro e parlare anche di depurazione, mala depurazione. Allora, andiamo sulla prima pagina di Gazzetta del Sud, l'area centrale della Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valencia, la Mezzia Terme, la procura di Catanzaro, l'inchiesta scirocco, come vedete, l'apertura sulle liste d'attesa è praticamente identica, chiuse le indagini sulla mala depurazione. La procura di Catanzaro ha chiuso le indagini e l'inchiesta scirocco che vede attualmente indagate 29 persone e 5 società al centro del castello accusatorio, c'è il gruppo imprenditoriale Minieri che ha gestito decine di impianti in tutta la regione. Gli inquirenti ipotizzano l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere. Ovviamente queste sono le ipotesi di accusa, poi ci sarà eventualmente una richiesta di rinviaggiudizio l'eventuale rinvio giudizio, poi il processo, quindi stiamo parlando di persone ovviamente da considerare innocenti fino a sentenza definitiva. Catanzaro servizi, stabilità finanziaria, assunzioni sono fra le priorità e poi andiamo a Pizzo, assolto, spiaggia libera, assolto, l'ex sindaco Gianluca Calli, può soluzione anche per tutti gli imputati. Ancora Vibo Valencia, che da Pizzo dista davvero poco, ascesa e declino del clan dei Piscopisani, i pentiti tracciano i profili dall'ambizione di rimpiazzare i Mancuso alle indagini della direzione distrettuale antimafia sui predestinati. Bene, andiamo invece a Crotone, adesso a proposito di aree centrali della Calabria, lavori sul lungomare al parco archeologico, tempi brevi per l'avvio dei due cantiere, esploitate le gare ed appaltati i lavori di rifacimento di Viale Gramsci e di valorizzazione dell'area archeologica di Capocolonna, finanziati con il PNRR. E poi, come abbiamo già detto, abbiamo parlato della Pasqua, i prodotti tradizionali secondo Confartigianato sono un valore aggiunto, salvano sotto questo punto di vista la Pasqua. Dall'area centrale della Calabria ci spostiamo invece al Regino. Si parla del ponte sullo Stretto, ovviamente, se ne sta parlando tanto, se ne parlerà ancora per mesi o per anni. Il 16 aprile la conferenza dei servizi La Stretto, la società Stretto ovviamente di Messina, annuncia sportelli informativi a Villa e Messina. Per il prossimo 16 aprile intanto è stata indetta al MIT, il Ministero per le Infrastrutture, la conferenza dei servizi istruttoria sul progetto del ponte sullo Stretto convocati i Ministeri, le amministrazioni statali interessate, Regione Calabria e Sicilia e i Comuni. Intanto, la società Stretto di Messina conferma che, come abbiamo già detto, aprirà degli sportelli informativi a Villa San Giovanni e a Messina i locali messi a disposizione dai Comuni. I Comuni coinvolti, lo sappiamo, sono Villa San Giovanni e Messina coinvolti direttamente da quest'opera. Ovviamente, quello che vedete è un rendering dell'aria, appunto, così dovrebbe essere il ponte sullo Stretto, dovrà essere eventualmente il ponte sullo Stretto. Restiamo adesso in Calabria, sempre nel reggiro, andiamo a San Luca, narcotraffico, preso il latitante Bruno Gioffre, condannato a Messina a 12 anni. a Reggio Calabria, tra l'altro trovate sul web anche le immagini, non si fermano all'alte e travolgono volante, autodistrutte, due feriti, c'è un video dell'inseguimento appunto che trovate sul web. Sempre a Reggio Calabria, il Comune cerca altro personale, due bandi per 29 assunzioni tra geometri e esperti informatici. Le domande dovranno essere presentate per chi fosse interessato entro il 19 aprile, quindi ancora una ventina di giorni. Si va verso le elezioni anche a Gioia Tauro, uno dei quattro comuni per i quali si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale e parliamo di comuni oltre i 15 mila abitanti, unico capologo di provincia Vibo Valencia, poi Gioia Tauro, Montalto Fugo e Corigliano Rossano che è il comune più grande da un punto di vista della popolazione. Forza Italia punta sulla candidatura di Simona Scarcella, sindaco di Gioia, i vertici del partito al di inaugurazione del comitato elettorale della piattaforma La Gioia del Domani che sostiene la corsa a Palazzo Sant'Ippolito dell'Esponente Azzurra. Poi abbiamo già parlato dei prodotti tradizionali, delle parole di confartigianato. Questo per chiudere la Gazzetta del Sud, la lettura delle prime pagine di Gazzetta del Sud, l'edizione di Reggio Calabria. Nella seconda parte poi andremo a dare un'occhiata anche al quotidiano, ovviamente. per il momento restiamo su Gazzetta a vedere qualche pagina interna e poi daremo spazio anche a un altro approfondimento. E allora lo spauracchio delle liste d'attesa, il nuovo piano per abbatterle. Si ritorna su quello che è il tema d'apertura sulla pagina calabrese, pagina interna di Gazzetta. La Regione punta un'unica piattaforma per tutti i cup attivi, l'obiettivo di convolgere anche le strutture private accreditate. Sottoscritta l'intesa sulle stabilizzazioni, svolta per riprecare della sanità, le aziende entro il 20 aprile dovranno consegnare i dati. Novità anche per gli OSS. E poi un nuovo trattamento per l'enfisema polmonare, visto che si parla di sanità, effettuato il posizionamento di valvole endobronchiali per la prima volta in Calabria, corsi d'acqua puliti, sinergia fra gli enti, Arpacala e Calabria Verde collaborano con l'obiettivo di verificare la balneabilità di fiumi e torrenti. Ma restiamo un attimo su questa notizia, o meglio, non proprio su questa notizia, quella delle stabilizzazioni e del lavoro, perché negli ultimi giorni si è parlato e anche non poco della vicenda dei call center. Poche giorno fa abbiamo anche trovato questa prima pagina e abbiamo trovato questa notizia relativa ai lavoratori dei call center, call center team in particolare, l'abbiamo trovata anche sulle prime pagine dei giornali. il vertice a Roma, ci sarebbe qualche spiraglio per l'occupazione di questi lavoratori, non ne abbiamo parlato tanto, ne abbiamo parlato perché in Calabria la vicenda Abramo vede protagonisti lavoratori ovviamente di Catanzaro, Crotone, Cosenza e non solo. E allora abbiamo raccolto anche dopo questa riunione quelle che sono le impressioni del segretario provinciale di Crotone della UIL Fabio Tomaino che parla appunto di questa situazione lavorativa dei call center e dei lavoratori diciamo su Commessa Team. Sentiamo Tomaino. Complessivamente l'Italia è indietro rispetto ai processi di innovazione della pubblica amministrazione, lo rivendichiamo da anni. Se in questa logica la Calabria diventa un progetto pilota per la digitalizzazione e per la sburocratizzazione dei processi e quindi al beneficio dei servizi cittadini può diventare una grande opportunità. La volontà del Ministero e l'intervento del Presidente della Regione Calabria e un atteggiamento responsabile di team rispetto alla gestione dei volumi di traffico oggi può garantire la salvaguardia occupazionale di oltre 1.000 lavoratrici e lavoratori. Il problema è dimostrare con capacità in tempi ragionevoli che non si tratta di propaganda. È praticabile perché sia i fondi di coesione e sia i fondi del Piano Nazionale di Resistenza e Residenza hanno delle misure a favore dell'efficientamento dei servizi dovuto ad una innovazione della pubblica amministrazione. Bene, questo è Tomaino. Adesso prima di fermarci per la nostra consueta pausa andiamo a dare un'occhiata alle ultime pagine di Gazzetta poi seconda parte avremo ancora il web da mostrarvi altri approfondimenti il quotiano del Sud le parole anche di Viali che ha appena parlato ha finito di parlare poco fa in conferenza stampa per presentare Cosenza-Brescia match di Pasquetta quindi lo sport andiamo nella pagina della regina di Gazzetta del Sud Castore nominati amministratori delegati e presidenti nuovi individuati nel corso dell'assemblea della società partecipata tenuta a Palazzo San Giorgio una partita che giochiamo insieme l'assessore battaglia le tappe sono state rispettate primavera regina tutti i grandi eventi tra aprile e maggio l'obiettivo è quello di favorire la crescita culturale e sociale coinvolgendo le associazioni e poi due bandi per 29 assunti l'ente cerca geometri e informatici ulteriore richiesta di personale da impiegare negli uffici comunali altre dieci posizioni saranno individuate tramite lo scorrimento delle precedenti gradatorie le domande scadono il 19 di aprile ovviamente ci sono delle c'è appunto interesse sicuramente da un punto di vista lavorativo da Reggio ci spostiamo alla pagina sportiva e oggi di sport se ne parla e tra l'altro proprio in questo momento mentre vi parliamo visto che l'apertura è dedicata alla Serie A c'è Lazio Juventus oggi pomeriggio alle 18 il Milan invece gioca a Firenze questa sera ma proprio mentre vi parliamo è in corso Napoli-Atalanta siamo giunti al 67esimo con i gol di Miranciu che scamacca nel primo tempo l'Atalanta in vantaggio per 2-0 sul Napoli ebbene questo per quanto concerne Napoli-Atalanta però per darvi qualche notizia aggiornata Allegri intanto lancia Ken Lex Tudor allenatore della Lazio ma in questo momento con un passato nella Juventus nessuna emozione Pioli invece gioca senza Teo Hernandez e poi le altre partite insomma vedete qui il programma il Napoli appunto aspetta l'Atalanta ma in questo momento non è stata una bella attesa tutti al fianco di Juan Jesus protagonista del lo ricordiamo dell'episodio presunto episodio razzista e con Acerbi gli agenti di Tonali ha voglia di ripartire al caso scommesse il Newcastle si schiera dalla parte del giocatore ha chiesto aiuto e poi Xabi Alonso sul futuro resta Leverkusen nei 70 anni di Antonioni sognavo lo scudetto e infine un'ultima notizia nel 2025 ancora in Arabia Saudita la Supercoppa italiana confermato il format che io definirei abbastanza discutibile a quattro squadre così come discutibile nel mese di gennaio andare a giocare in Arabia Saudita comunque lasciamo perdere ci fermiamo a questo punto lasciamo anche la pagina sportiva per il momento ritorniamo fra poco ripartiremo dal quotidiano dalla prima pagina e dalle pagine interne noi ci fermiamo un attimo torniamo fra pochissimo rientriamo in studio per la seconda parte di prima pagina abbiamo raccontato tante notizie nel corso di questa della nostra prima parte ovviamente adesso andiamo siamo arrivati sulle 14 quindi iniziamo con il quotidiano poi vedremo se possiamo avere anche collegamenti esterni avremo altro vedremo vediamo un po' di proporvi anche qualcosa di ecco più pasquale forse abbiamo delle immagini di ciò che sta accadendo in questo momento proprio a Cosenza Centro e dovremmo avere delle immagini di festa ecco qua gente che si saluta gente che si diverte ovviamente noi siamo qui a lavorare ovviamente loro si divertono c'è insomma immagini di divertimento perché c'è un po' l'atmosfera di festa e fra poco ci collegheremo con il centro di Cosenza per cercare di farvi vivere anche un po' quello che è l'avvicinamento a questa Pasqua anche da un punto di vista dei consumi da un punto di vista delle tradizioni c'è il nostro Gianluca Pasqua dovrebbe essere in diretta proprio da Corso Mazzini lo intravedo nel monitor di servizio eccolo qua Gianluca e inizia a sentire anche un po' di musica che arriva da Corso Mazzini Gianluca ci sei? Sì Paolo ciao faccio fatica a sentirti perché siamo in un oasi di divertimento evidentemente perché l'isola pedonale si sta lentamente svuotando è l'ora di pranzo chiaramente quindi molti rientrano negozi che stanno chiudendo però c'è il tentativo da parte di alcuni esercenti di replicare quello che succede nelle vacanze natalizie cioè tutti fuori per festeggiare la Pasqua anche dal punto di vista come dire mangereccio e così è infatti in questo locale nei pressi della prefettura dove c'è tantissima gente che sta ascoltando musica e facendo il classico aperitivo forse rinforzato anche di più perché c'è tanta gente che sta pranzando fuori per poi rientrare a casa la Pasqua è anche questo in questo momento c'è grande voglia di divertirsi a Cosenza nell'altra città calabresi e in questo momento in questo locale ce n'è un esempio ben nitido e lampante bene Gianluca grazie per questa testimonianza e il racconto di quanto sta accadendo ti dico buon lavoro e ti dico anche buon divertimento perché visto che sei lì allora tra un collegamento e un altro magari l'aperitivo ci può scappare sei con Mario Scarpelli ci proverò a dopo buon lavoro a entrambi grazie Gianluca e questo per farvi entrare un po' anche in questo che è il clima di feste usciamo dal clima di feste entriamo sul clima dei giornali notizie e andiamo sul quotidiano del sud come abbiamo appena visto presunto boss al 41 bis ricoverato d'urgenza le famiglie è illegale non ci danno notizie parliamo di Leone Soriano del Vibonese l'avvocato paventa violazioni dei diritti umani questa è l'apertura la prima diciamo delle due notizie in apertura del quotidiano del sud ma ne abbiamo un'altra molto più musicale visto che poco fa sentivamo musica in sottofondo con il collegamento con Gianluca Pasqua Cotronei perché Cotronei perché le origini di Steven Tyler sono proprio a Cotronei c'era stata un problemi fra l'ex Cyrus Smith e il comune il museo del rock adesso approvato invece da Steven Tyler e quindi il progetto torna alle origini dopo la delocalizzazione e la diffida inviata dall'ex leader degli Aerosmith il comune ha deciso di acquistare il palazzo degli antenati del cantante Tyler lo ricordiamo parliamo di si chiamava Talarico adesso non voglio però si chiamava Talarico il suo antenato poi è diventato Tyler passando in Inghilterra meglio tardi che mai avrà pensato questo Nino Grassi cugino della rock star mondiale Steven Tyler è presente l'associazione a lui intitolata quando il consigliere comunale Pietro Segreti gli ha comunicato che l'amministrazione a cambio di idea adesso intende acquistare Palazzo Bevilacqua per realizzare ovviamente la galleria museale attributo e l'artista di origine cotronellare l'immobile avrebbe dovuto diventare la sede del museo del rock ma il progetto fu snaturato la delocalizzazione suscitò l'ira di Tyler in quello storico Palazzo di Via Grie intorno al 1890 Giovanni Tallarico nonno dell'ex leader degli Aerosmith sposò la segretaria come era chiamata in paese Fortunata Trocino o Trocino Ponte sullo Stretto ecco ritorniamo su questa vicenda il 16 aprile inizia la conferenza dei servizi a breve l'avviso sugli espropri e poi un altro tema caldo autonomia differenziata e sanità allarmi inascoltati gli OS da assumere con urgenza la sanità in Calabria sono 262 posti vacanti via libera della regione poi a Rocca Bernard monopolio dei clan negli appalti la DDA direzione dei statuanti mafia chiede il rinvio a giudizio per nove imputati andiamo a Cosenza settimana di passione no e allora anche la settimana di passione in ambito politico gioco di parole per parlare del momento del partito democratico cosentino grazie a Dio tre croce e tinto replicano a Pecoraro sul rimpasto di giunta i cosiddetti tre dissidenti l'abbiamo sentito in questi giorni la città unico è il caso della possibile espulsione dei tre dissidenti scuotono il partito ci spostiamo a Corigliano Rossano un detenuto aggredisce agenti e sanitario l'abbiamo sentito poc'anzi e poi ambiente via la pesca sperimentale della Sardella la Pasqua a Brescia a San Demetrio per rubare nella fontana dei monaci un rito particolare appunto a San Demetrio Corone paese di origine a Brescia appunto e poi concerti sulle sponde del Cecita con i Motor Psycho e questa è la prima pagina del quotidiano del Sud abbiamo ovviamente anche altre pagine da mostrarvi qualche pagina interna proprio qui si parla di Stephen Tyler della famosa vicenda che vede il protagonista l'ex cantante degli Aerosmith e la svolta il comune ci ripensa pace fatta con Tyler e poi assumere con urgenza gli operatori socio-sanitarie e questa è una notizia che ci riguarda e non poco la richiesta complessiva delle aziende di 262 professionisti entro 15 giorni gli enti regionali dovranno aggiornare i fabbisogni ovviamente si parla delle diverse esigenze delle diverse aspe anche degli ospedali e qui si vengono riassunti in maniera dettagliata alla Lubecco di Catanzaro 30 30 all'ASP di Cosenza 115 all'ASP di Reggio Calabria il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria 62 e poi l'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valencia 25 e questo ovviamente per quanto concerne la sanità e poi il nuovo ospedale lo Spoc di Polistena rischia di sparire il sindaco sfida occhiuto ovviamente ancora discussioni sulla rete ospedaliera invece di discussione di parole mi fermo con le parole caro Luca Chito perché devi allargare un attimo l'inquadratura perché abbiamo non un os eccola qua lo sa Luca che siamo pronti con il nostro telegiornale alle 14 e 30 insomma sono davvero tante le notizie che oggi vi daremo nel corso dell'edizione del nostro giornale quindi antispazio ride Isabella Rocamo perché c'è il direttore che è venuto a darci gli auguri perché il nostro direttore è venuto a darci gli auguri di Buona Pasqua proprio qui se vuoi il direttore può intervenire in diretta insomma così ha detto che delega è Isabella Rocamo c'è una delega per iscritto per gli auguri di Buona Pasqua per il telegiornale e per gli auguri di Buona Pasqua insomma ampia pagina dedicata appunto alla Pasqua insomma le iniziative per questa festa molto sentita ieri hai pregato? certo sei stata alle processioni? certo ti sei battuto il petto anche tu no? certo vi racconteremo un po' la fede la tradizione dei riti della settimana santa qui in Calabria insomma sono dei momenti davvero molto sentiti e poi c'è una chicca oggi nel nostro telegiornale abbiamo parlato con una suora che si trova a Betlemme insomma vi faremo ascoltare appunto le sue parole oggi è una giornata particolare sì è una giornata particolare perché nel frattempo vedi cosa mentre noi parliamo dei riti noi abbiamo gente che balla e che non sa di essere in onda in diretta tra il sacro e il profano sono anche molti noti di TEN certo perché poi nel corso del nostro telegiornale ci collegheremo proprio ecco guarda guarda chi c'è Luigi c'è Luigi esatto il mitico Luigi da lì vi faremo vedere insomma come si si festeggia in centro città noi siamo qui noi festeggiamo qui in diretta chiaramente però poi anche nel corso del nostro telegiornale vi faremo vedere questi momenti di festa nel centro della città c'è il nostro Gianluca Pasqua che ci racconterà siamo già collegati poc'anzi tu non eri impegnata nel realizzare il servizio esatto eravamo con Gianluca Pasqua e Mario Scarpelli collegati poc'anzi proprio dal centro di Cosenza ecco le immagini continuano a scorrere Gianluca sta prendendo anche appunti sta parlando con un po' di persone comunque poi nel corso del telegiornale ci ricollegheremo non possono solamente festeggiare anche Mario e Gianluca devono lavorare certo poi parleremo delle amministrative quelle di Montalto Fugo e beh c'è il passo indietro del dottor Luigi Formoso quindi al momento i candidati rimangono quattro ma non è detto insomma perché ancora ci sono delle fibrillazioni dei movimenti nato quindi vedremo fino al sì perché il ritiro c'è stato di Formoso gli altri Faragalli Faragalli Viafora Brogno e Dacri quindi vedremo insomma se saranno poi questi oppure ci saranno altri colpi di scena io vado velocissimo Paolo sì per questo abbiamo parlato anche di Corigliano Rossano l'ha sempre definita invece la questione con Straface Stasi con azione che era un po' e poi insomma ha deciso di azione sulla straface poi insomma i giochi invece a Montalto Fugo sono tutt'altro che conclusi anche perché il PD il circolo del PD e la coalizione uscente dovranno individuare anche a questo punto un altro candidato e poi ovviamente parleremo di sport tu il lunedì di Pasquetta andrai a fare la gita fuori porta invece il Cosenza sarà in campo la mia gita sarà al San Vito Marulla al San Vito Marulla quindi seguirai la partita e fuori porta perché non sono a campo fuori porta quindi sentiremo le parole del mister Viali insomma questa preparazione appunto della gara io vado velocissimo perché abbiamo un po' di dettagli da mettere una sola cosa vogliono sapere i nostri spettatori io ho detto dove andrò a Pasquetta tu dove vai? a casa di mamma normale tu non vai fuori porta stai a casa assolutamente relax fantastico guarda due giorni di relax ce lo meritiamo ci stanno ci stanno assolutamente ti lascio Paolo oggi non c'è diritti negati giovedì non sei venuta e abbiamo dovuto fare l'anticipazione e Gianluca Pasqua e diritti negati vabbè ti ho lasciato in ottima maniera assolutamente ti aspettiamo giovedì prossima Gianluca è a Corso Mazzini oggi però ricordiamo che subito dopo il nostro telegiornale c'è Rosalba c'è Rosalba Baldino il nostro caporedattore Focus Cultura quindi ovviamente te non si ferma mai neanche il sabato di Pasqua assolutamente buon proseguimento Paolo grazie ci vediamo dopo e auguri anche a te di buona Pasqua ovviamente noi ci vediamo però insomma per i nostri telespettatori che continuano a seguirci tu sarai in onda fra poco in conduzione al telegiornale e allora ritorniamo sul anzi ritorniamo un attimino proprio ecco ancora vedo immagini di festa oggi va così oggi è questo il trend ovviamente siamo nel centro di Cosenza e ci voglio di festeggiare questo è bello soprattutto ricordando magari ricorderete la Pasqua 2020 quando eravamo tutti chiusi ma anche Pasqua 2020 è caduta proprio nei giorni del lockdown ma pensate anche a Pasqua 2021 quando non eravamo ancora fuori dalla pandemia ma eravamo praticamente tutti con le zone rosse e Pasqua e Pasquetta fu una zona rossa Pasqua e Pasquetta furono zona rossa allora vedere queste immagini a distanza di qualche anno ricordando quei momenti difficili e bui e davvero ci rincuora ed è tutto molto più bello molto più bello così assolutamente tornando invece sui nostri giornali ecco siamo sul quotidiano pagina calabrese il ponte sullo stretto verso la conferenza dei servizi ne abbiamo già parlato e poi nonostante i prezzi salgono i consumi dei prodotti nonostante i prezzi salgono i consumi dei prodotti della tradizione a proposito di Pasqua rispetto allo scorso anno costi aumentati del 3,3% e poi ancora monopoio dei clan 9 imputati siamo a Rocca Bernarda sotto accusa ex sindaco e due funzionari altro ex sindaco finì nel mirino la DDA chiede il giudizio per i 100 appalti dell'impresa della Cosca e poi ancora concessioni demaniali assoluzione per l'ex sindaco Gianluca Callipo e poi dopo Rocca Bernarda ci spostiamo a Vibo Valenza Leone Soriano ricoverato d'urgenza il presunto boss di Pizzini ristretto a Parma in regime di carcere duro la famiglia illegale denunciano l'assenza di notizie sulle sue condizioni di salute velocemente Catanzaro a Parma per il riscatto gara difficilissima ma i giallorossi vogliono rifarsi dopo il pesante passivo dell'andata Briganti preoccupa Vivarini le sue condizioni pronte di alternativa nel reparto difensivo potrebbe esserci Veroli a sinistra a suo posto con ovviamente anche quelle che sono i due centrali ovvero Scogna Emilio e Antonini Cosenzo un solo dubbio per Viali Tutino sì Tutino no l'attaccante è in gruppo ma si deciderà all'ultimo momento contro il Brescia serve un segnale forte di maturità da parte della squadra bene Tutino sì Tutino no e allora questa lo potete immaginare è stata la prima domanda che è stata rivolta a mister Viali nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è conclusa pochi minuti fa allo stadio San Vito Gigi Marulla la sala stampa dello stadio San Vito Gigi Marulla la risposta di Viali e le sue risposte altre domande le andiamo a sentire poi ripareremo nel corso del nostro telegiornale ha parlato di Tutino la risposta di Viali lascia aperte diverse possibilità sentiamo Viali allora Tutino questa settimana si è legato al gruppo come lavoro chiaramente siamo una di graduali però è arrivato poi a fare tutto con la squadra negli ultimi tre allenamenti e ci sono buone sensazioni se doveste chiedere a Tutino vi direbbe sicuramente di sì nel senso che c'è una voglia di rientrare che è clamorosa questa sarà una scelta legata non prettamente dalle scelte tecnico-tattica chiaramente ma sarà un confronto fra lo staff tecnico e anche quello medico che chiaramente è una cosa comunque un infortunio importante che lui ha recuperato in maniera anche molto rapida rispetto alla media e quindi dovremo confrontarci su questo secondo me anche quella di Terni poteva avere questa valenza sotto l'aspetto del futuro diciamo così però è chiaro che avevo meno dati oggettivi in mano meno esperienza con questo gruppo e quindi questa partita cerco delle conferme perché quello che dici tu è molto vero nel senso che la nostra squadra è una squadra che ha dei dati delle statistiche importanti sotto certi punti di vista ma anche incongruenti ok cioè nel senso siamo fra le migliori difese ma abbiamo perso moltissimo ok questa è un'incongruenza forte quindi io credo che l'aspetto della mentalità sia determinante per fare risultati importanti dentro una stagione ma soprattutto nelle ultime otto gare dove sappiamo che dal 39 punti in giù tutti parlano di salvezza sognando qualcosa di più e sopra chiaramente hanno grandi obiettivi per la promozione per i playoff sicuramente a me la partita di Terni mi ha dato tanto cioè mi ha detto tanto della mia squadra io conoscevo come vi dicevo prima le statistiche però vivere una partita dal campo è sicuramente diverso mi ha dato spunti tattici perché chiaramente poi l'abbiamo lavorata con lo staff ma chiaramente anche con la squadra e soprattutto come ti dicevo prima spunti sotto l'aspetto psicologico nel senso che è chiaro onestamente non mi aspettavo dopo un primo tempo del genere il quarto d'ora venti minuti dell'inizio della ripresa nel senso come un fulmina c'è il sereno senza magari un preavviso con una difficoltà iniziale nella ripresa piano piano e questo mi ha dato spunto per cercare sicuramente di alzare la determinazione la partecipazione mentale anche nel negli allenamenti perché dire questione di mentalità dici tutto ma non dici nulla nel senso come la si può attivare probabilmente con le richieste anche dalle piccole cose dentro gli allenamenti fino a quelle più importanti quindi grande determinazione in ogni situazione perché anche domani abbiamo preparato una partita per cercare di comandarla sicuramente di costruire tanto di portare tante situazioni in fase offensiva ma però sono convinto che il risultato lo darà poi sempre la mentalità bene lasciamo adesso il calcio in attesa delle partite appunto del lunedì di Pasquetta per andare sul web e vedere insomma quelle che sono le notizie della mattinata anche a livello nazionale andiamo su repubblica.it e a proposito di calcio ci dà anche un aggiornamento rispetto a quanto sta accadendo Napoli e Atalanta 3 a 0 per l'Atalanta la parte praticamente è chiusa siamo nei minuti finali ma insomma 3 a 0 è già una partita abbastanza particolare giocatore del Napoli in ginocchio per dire no al razzismo prima del match con l'Atalanta è successo questa è la reazione al caso Juan Jesus ovviamente i giocatori del Napoli schierati con il proprio compagno di squadra e qui la diretta beh 0 a 2 ma in realtà è 0 a 3 ha signato Copminers ve lo posso garantire e andiamo avanti poi con le altre notizie BNL clienti trovano a debiti multipli alcuni conti correnti azzerati la banca prova a rassicurare quanto accade nell'istituto di credito poi la vicenda Ilaria Salis chiama il padre dell'attivista detenuto in Ungheria in Ungheria la disparità di trattamento ci colpisce e poi andiamo avanti con l'immagine più premiata per la foto dell'anno il corpo di Shaniluk uccisa da Amas critiche social ma il padre non le condivide il governo alla prova quindi anche la pagina politica Meloni prepara un rimpasto dopo l'europea via sette ministri arriva la lista rosso-bruna post fascisti di Alemanno e neocomunisti questi diritti candidano a sindaco il frattore dell'ex DG Giovanardi Tarquino il buono e Tarquino il cattivo identità appunto parallelismo con la storia di Roma due identità per un PD indeciso e poi Roberto Vannacci sono testosterone da quando sono nato dal bambino ero molto maschio come le mie figlie sono molto femmine ci interessa diciamo poco a Osta coppia abusa sessualmente per mese del padrone di casa e minaccia di fondere i video lui implorava di smettere ho problemi di salute triste storie che arriva dalla Valle d'Aosta il fatto quotidiano bombe sui caschi blu dell'ONU Libano colpito un mezzo al confine con Israele quattro ferite è stato un drone dello Stato ebraico Tel Aviv nega ogni responsabilità Mattarella chiama il padre di Ilaia Salis le sono vicine e garantisce interessamento al caso della 39enne andiamo velocemente sulla stampa.it ultimi istanti caso Acerbi la protesta tutto il Napoli si inginocchia in campo contro il razzismo le anomalie sulla BNL sui conti BNL poi caro armatinato in movimento sul confine del corridoio su Valti Varsavia siamo pronti alla guerra tra tre anni la sfida della Russia arrestato in Austria l'ex agente dei servizi austriaci Gistot cedeva segretei russi per anni anche dall'Italia e poi Mattarella che chiama Salis il padre di Ilaria Salis le sono vicine il papa di Ilaria ha garantito interessamento andiamo sul messaggero punto it la diretta del Napoli con Coppemeyers che chiude un match che di fatto era già chiuso ma soprattutto gli azzurri cioè il Napoli che si inginocchia per la protesta contro il razzismo ancora Sinner e poi l'Aeria Salis Mattarella al padre le sono vicino colpisce la disparità di trattamento ricevuto Zaleska agli Stati Uniti dati ci i missili ATAMX ovviamente sempre a chiedere armi al posto di cercare la pace senza aiuti Kiev rischia la ritirata ecco gli scenari Olanda uomo armato sequestra persone in un bar e minaccia di farlo saltare in aria è stato arrestato salvi tutti gli ostaggi fortunatamente e poi maltempo fino a Pasquette in alcune zone in Sicilia però punte di 30 gradi un'Italia spaccata in due Papa Francesco salta la via Crucis ma stasera sarà la veglia pasquale il significato delle sue meditazioni infine per la cronaca calabrese per le notizie calabrese alla mattinata qui Cosenza ecco lui lunedì Cosenza Brescia Viali voglia a Matte tornare al successo tuttino verso il rientro Agrituris pienone per i pranzi di Pasqua e Pasquette in campagna boom in Calabria la rinuncia alla candidatura a sindaco di Montolto Fugue la quale abbiamo parlato Luigi Formoso violenza da amministratori locali italiani allarme l'Europa chiede misure per proteggerli prima di salutarci e di farci gli auguri di buona Pasqua lasciamo il web per qualche prima pagina dei giornali oggi in edicola Corriere della Sera apre con le vicende dell'Ucraina cresce la tensione ai confini della Nato i caccia italiani intercettano jet russi sul Baltico poi Schiavone Francesco Schiavone che si pente detto Sandokan collabora con i PM e Yannick Sinner ora la finale può diventare il numero due al mondo la Repubblica e i segreti di Sandokan l'apertura dedicata al pentimento del boss Schiavone poi la politica dopo l'Europa Meloni prepara il rimpasto via Sette Ministri chiudiamo con il messaggero Melonascite Italia in affanno una notizia che sapevamo insomma e poi si ricorda anche l'ora legale oltre a parlare del calcio e dell'inarrestabile Sinner bene è tutto anche per oggi a voi tutti ovviamente gli auguri di una buona Pasqua di una felice Pasquetta noi ritorniamo martedì sempre alle 13.30 io adesso vado via voi però restate su Ten buona giornata e buona Pasqua Grazie a tutti